Accolto immediatamente questa idea è nata... Politica, associazionismo, imprenditoria, cultura. Diverse categorie sociali chiamate tutte a riflettere sulla condizione di una città a cui viene contestata una grande colpa. Quella di aver perso la memoria collettiva e di conseguenza aver distrutto le sue eccellenze per non aver riconosciuto nel tempo precise responsabilità e non aver fatto germogliare il seme dell'indignazione e della ribellione ogni qualvolta è stata mortificata. Oggi più che mai ci si aspetta uno scatto d'orgoglio da parte del capoluogo di Regione affinché possa rivendicare il suo ruolo di fervente centro culturale. Sono questi i punti salienti del dibattito svoltosi nella sala giunta della provincia e organizzato dalla Proloco di Catanzaro e dalla libreria UBIC. Un incontro per discutere di una possibile rinascita di questa città che ne ha veramente bisogno. Qual è il ruolo dell'associazionismo in tutto questo? Ma è un ruolo centrale. Le istituzioni ormai non possono dare più risposte. A parte il tempo che è scaduto, nel senso che la città si è ridisegnata da sola senza che le istituzioni mettessero mai un... Naturalmente è andata fuori dal centro storico, naturalmente sta vivendo adesso una nuova stagione ma è chiaro che la città e non soltanto il centro storico, io l'ho sempre detto, soprattutto anche gli altri quartieri, devono ridiscutere tra di loro e devono soprattutto comprendere quale potrà essere il nuovo ruolo e soprattutto ridisegnarlo per il futuro. Bisogna avere una programmazione e capire la vocazione che ha Catanzaro. Se prima non si capisce questo è chiaro che nell'isolamento economico ci rimarrà sempre. Come Confindustria, come imprenditori possiamo pensare a qualcosa però ripeto, se non si ha una vocazione, non si capisce qual è la vocazione e non si imbocca la strada giusta. Quando si parla è chiaramente un fattore positivo e quando non ci sono individualismi e forse questo è stato il male anche di Catanzaro e della Calabria stessa quindi oggi si parla coralmente per un interesse comune si parla soprattutto il linguaggio della chiarezza, credo se non c'è chiarezza non si può andare avanti. Lo spunto della discussione è stato dato dai libri a sfondo storico scritti da tre autori catanzaresi Nicola Fiorita, Bruno Gemelli e Alessandro De Virgilio. Nel 1950 si verificò la mobilitazione della città che chiedeva il riconoscimento del suo ruolo di capoluogo della Calabria. Era una città consapevole della sua storia consapevole delle sue potenzialità era una città che progettava il futuro e pensava a darsi quelle infrastrutture che invece poi sono arrivate nel tempo ma sono arrivate molto dopo un deficit che ha influito anche nel rapporto tra Catanzaro e il resto della regione. In questo momento quegli anni possono rappresentare una presa di coscienza un ritorno d'orgoglio da parte dei catanzaresi che devono riappropriarsi della storia della loro città e soprattutto essere consapevoli del ruolo a cui la città è stata chiamata dallo Statuto della Regione. Qual è l'insegnamento che la Catanzaro di oggi può trarre dalle pagine del suo libro? Beh, è una storia caduta nell'oblio che io ho tirato all'aria dopo 50 anni si tratta di un giallo, di un delitto politico di cui non si è trovato né nell'esecutore né in movente e che ha fatto piombare i cittadini catanzaresi dopo il clamore mediatico nell'assoluto silenzio non hanno avuto la curiosità di approfondire l'insegnamento e che purtroppo la memoria si perde e questa è una città contemporanea che guarda solo le cose di oggi ma non guarda il passato e forse non si preoccupa anche del futuro. Partire dalla memoria per affrontare il presente e arrivare al futuro nella consapevolezza degli errori commessi da più parti. L'incriminata principale resta la politica per non aver gestito nella maniera migliore la res pubblica e a cui ha fatto da appoggio la rassegnazione degli abitanti dei tre colli. Chiamato in causa, il primo cittadino ha affermato mi sento un po' sul banco degli imputati essendo stato tre volte sindaco ma passo subito al contrattacco rimarcando la responsabilità dei cittadini che non hanno mai sollevato una sommossa popolare di fronte a decisioni illegittime prese da chi era al potere. la responsabilità degli ordini professionali che non hanno mai proposto una bozza di piano regolatore e infine quella delle associazioni il cui contributo non si è mai tradotto in qualcosa di concreto. Dunque, se Catanzaro oggi è una città moriente i colpevoli sono tanti. Aspettiamo di conoscere i nomi degli autori dell'auspicata rinascita. Purtroppo ha avuto la forza di fare un'inversione di tendenza e di rendere questa città invece una città amata.